Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema chiavi Disney. Il video precedente, ormai di quasi sette mesi fa, ha avuto un buon successo, ha riscontrato molto interesse, ho visto che tanti hanno cominciato a collezionare queste chiavi e quindi voglio fare il punto della situazione e mostrarvi le nuove chiavi che in questi mesi sono arrivate e che sono riuscito a prendere. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutte le magliettine disponibili sul sito, ma non solo magliette, anche calzini, poster, cover e tantissime altre cose. Trovate tutti i link sotto in infobox. Ma ragazzi, adesso cominciamo e facciamo un attimo il punto della situazione. Intanto, per chi non lo sapesse, cosa sono le chiavi Disney Store? Sono delle chiavi che vengono regalate, vengono date in omaggio a fronte di un acquisto minimo in determinati periodi dell'anno per celebrare degli avvenimenti, degli anniversari particolari. La prima chiave che è stata data a tutti è questa qui, si tratta della chiave d'apertura, è una chiave verde con queste foglioline di vite e questa chiave qui viene regalata, tutt'oggi, quando riapriranno i Disney Store, viene regalata ogni giorno al primo cliente che è colui che apre letteralmente le porte del negozio. Il primo cliente della giornata riceve in regalo questa chiave ed è l'unico modo per averla. Poi, naturalmente, si può anche procurare online sui vari gruppi Facebook, su eBay e in tutti gli altri posti. Questa chiave non ha un valore elevatissimo, intorno ai 30€ e si può reperire ogni giorno in tutti i Disney Store che fanno la cerimonia di apertura. Detto questo, ragazzi, io nel primo video vi ho mostrato le prime sei chiavi che erano uscite fino a quel momento. Adesso ve le mostrerò molto velocemente. Nel caso voleste informazioni più dettagliate, vi lascio nelle schede il video precedente, così da vederle meglio, da capire anche meglio come funziona il mondo delle chiavi. Visto che nel frattempo, in questi sette mesi, ne sono uscite tante altre. Io vi ho mostrato la seconda chiave, che è questa qui di Topolino, che adesso ha un buon valore e si tratta della chiave per i 90 anni di Topolino. Poi abbiamo un'altra chiave, che è quella di Paperino, che è stata rilasciata per gli 85 anni della sua nascita. E poi abbiamo anche quella di Aladin, questa qui. Anche questa ha un bel valore come quella di Paperino, le prime costano tantissimo ormai. Questa qui si aggira anche oltre i 100 euro. È stata rilasciata per l'uscita del live action del film. Naturalmente tutti questi rilasci vengono detti su Instagram, su Facebook, nei canali ufficiali Disney Shop. E lì potete vedere quando verranno rilasciate le chiavi, a quali condizioni, solitamente a fronte di un acquisto minimo di 20 euro. E ragazzi, ultimamente durante il lockdown sono continuate ad uscire le chiavi Disney, però era possibile prenderle solo online, ad un determinato giorno, a fronte di una determinata spesa, inserendo un codice promozionale. Ma di questo ne parleremo tra poco. Poi vi ho fatto anche vedere la chiave di Toy Story, questa rilasciata per l'uscita di Toy Story 4, che è tra le mie preferite, molto molto bella. E poi abbiamo questa, che invece era l'ultima che vi avevo mostrato, è la chiave del D23, che è stata rilasciata solo negli Stati Uniti, in occasione appunto dell'Expo di Disney, quando venne presentato Disney+. Quindi ragazzi, questa qui è un'altra chiave molto molto rara ormai. E poi ce l'avamo lasciati con un'altra chiave che stava per uscire, che era quella dedicata al film di Frozen 2, che sarebbe uscito da lì a poco, e appunto anche in quel caso, con una spesa minima di 20 euro, ci sarebbe stata questa chiave in omaggio in tutti i Disney Store. Io spero che adesso riprenderanno questa attività negli store fisici, perché è davvero un grandissimo sbattimento prenderla dal sito, visto che il sito viene letteralmente preso dal salto, si hanno grosse difficoltà a processare gli ordini, a pagare, il sito crasha di continuo, e non è detto che tutti riescano a prendere la chiave, visto che sono limitate. Ma detto questo, adesso vi mostro la chiave di Disney Frozen 2, che è questa qui. Questa è la chiave che venne data per il rilascio del film di Frozen 2. È una chiave congelata, è una chiave che ha la D e il castello trasparenti, con dei glitter all'interno, delle foglie, dei cristalli di ghiaccio stampati sopra, e poi questa, che credo sia la trama di uno dei vestiti delle protagoniste. Io non ho visto Frozen 2, quindi non lo so, magari ditemelo voi nei commenti, e fatemi sapere se vi piace questa chiave. Io devo dire che quando la mostrarono su Instagram ero un po' scettico, però invece dal vivo è molto molto bella, apprezzabile. Dopo di questa qui, che è uscita, se non sbaglio, attorno al mese di novembre, a dicembre venne ufficializzata la chiave dedicata al Natale, Natale 2019. E questa, anche una delle mie chiavi preferite, venne rilasciata appunto a fine dicembre, ed è questa qui. Questa, che ha proprio dei colori molto molto natalizi, abbiamo il verde, il bianco e il rosso, e abbiamo nella D dei cristalli di ghiaccio, dei fiocchi di neve, uno scintillio sul castello, e poi abbiamo un trenino, qui stampato nella parte centrale, con un topolino, minni, abbiamo anche paperino, e Pluto, se non sbaglio. Sono stampati molto molto piccoli, però sono stampati abbastanza bene, e questa qui è quella di Christmas 2019. Molto importante il cartellino, qualora acquistaste una chiave usata da qualcuno, accertatevi che il cartellino sia presente, perché il valore cala moltissimo senza questa parte qui. Solo la chiave, diciamo, che viene a costare almeno un 40% in meno, rispetto al prezzo di mercato, qualora mancasse il cartellino. E, successivamente, dopo un periodo un po' di fermo, per circa uno o due mesi, non vennero annunciate più chiavi, poco prima del lockdown, è stata rilasciata l'ultima chiave, che è quella di Minni. Ed eccola qui. Questa è la chiave di Minni, che ha la tipica trama rossa a pallini bianchi, e poi c'è qui il fiocco al centro tipico di Minni. Infatti, qui abbiamo il cartellino Minni Mouse, e questa qui non credo fosse legata ad un qualche evento particolare, ma era semplicemente una chiave dedicata a Minni, perché era uscita la nuova collezione di prodotti dedicati a lei. E questa è l'ultima chiave che io ho preso direttamente in negozio al Disney Store, perché da lì a poco sarebbe dovuto uscire una chiave dedicata all'anno bisestile, una chiave dedicata a Tigro, e questa chiave doveva essere reperita in negozio, ma proprio una settimana prima dell'uscita della chiave è stato dichiarato il lockdown praticamente in tutta Europa e la chiave è stata cancellata dai negozi, però è stata distribuita online. Disney ha promesso che recupererà questa chiave successivamente in negozio, ma io non mi fido, e infatti l'ho presa online. E si tratta di questa chiave qui. Ed eccola qui, chiave dedicata a Tigro, la trama è quella della pelliccia di Tigro, è una chiave molto semplice, non ha glitter, non ha parti trasparenti, nulla di particolare, però nella sua semplicità è molto molto carina, e questa qui, come vi dicevo, dovrebbe essere disponibile alla fine del lockdown, alla fine delle restrizioni, quando riapriranno i Disney Store, dovrebbero fare un annuncio per questa e per la prossima chiave che tra poco vi mostrerò. Questa ha il suo cartellino con Tigro, e c'è scritto Leap Day, quindi è il giorno bisesto, il giorno bisestile. Quindi in quell'occasione è stata rilasciata questa chiave. Piccolo appunto sul sito Disney Store, Shop Disney, questo sito, ragazzi, è lentissimo nelle spedizioni. Tutte le spedizioni arrivano dal Regno Unito e impiegano circa dieci giorni, due settimane per arrivare gli ordini, quindi davvero tantissimo, e questo causato dal fatto che il magazzino si trova nel Regno Unito. Quindi piccola nota di demerito. Di pro ci sono le scatole delle spedizioni che sono davvero molto belle, e poi ragazzi, comunque in ogni caso, non c'era alternativa, quindi bisognava prenderle lì. Per questo spero di poterle prendere di persona, anche perché molta gente non ha ricevuto le chiavi, per errori non sono state messe dentro le scatole, gente ha ricevuto le chiavi rotte, gente ha ricevuto pacchi manomessi, quindi è sempre un rischio prenderla sul sito, anche perché una volta arrivato il pacco, se non è presente la chiave, potete rendere la merce, ma non avrete la chiave, vi potete letteralmente attaccare al tram. Quindi per questo preferisco andarla a prendere personalmente. L'altra chiave uscita in periodo di lockdown che hanno promesso verrà recuperata, è una chiave che in un primo momento è uscita solo in America, dentro una confezione, costava 13 dollari, successivamente è arrivata anche in Europa, senza box, cosa che io preferisco, preferisco il cartellino, e si tratta di questa chiave dedicata ai 70 anni di Cenerentola. È una chiave molto carina, qui sulla parte davanti abbiamo la scritta Cinderella, e poi al centro abbiamo la zucca trainata dai cavalli, e la parte della D blu con queste stelle color argento. È molto molto bella, sembra un po' la chiave dei baci perugina, però devo dire che il design è molto molto azzeccato, molto carino, mi piace tanto. E questa qui verrà rilasciata, a quanto pare, nei Disney Store, successivamente alla riapertura dei negozi. Quindi Tigro e questa chiave qui, in teoria dovrebbero essere recuperabili da qui a qualche settimana, qualche mese, ma non si sa altro. Invece le prossime due che vi mostrerò, sono quelle uscite più di recente, non verranno recuperate nei negozi, perché Disney nei suoi post sui social non ha specificato nulla, non ha detto che verranno date anche nei negozi, ha semplicemente aumentato la tiratura sul sito, portandola a 22.000 pezzi, e quindi credo che queste qui non verranno mai recuperate nei negozi. E si tratta della chiave Frozen 2, questa qui sempre dedicata a Frozen ed è dedicata ad Elsa, è la Snow Queen Key, quindi la regina delle nevi. È una chiave molto semplice, è stata molto molto criticata, che va a riprendere gli abiti di Elsa, e infatti abbiamo da questa parte una sfumatura viola che va sul bianco, e poi la chiave è interamente ricoperta da glitter. Devo dire che lascia qualche glitter, se taccano un po' alle mani, va toccata il meno possibile, però è una chiave carina, molto molto carina. La particolarità di questa chiave è che è un'esclusiva per l'Europa, questa chiave non è arrivata negli Stati Uniti, come qui invece non è arrivata la chiave dedicata ad Olaf, che invece è uscita solo negli Stati Uniti, solo in America, e che quindi ha un costo abbastanza elevato. Ora gli americani sono tutti in cerca di questa chiave, ovviamente io fortunatamente ne ho prese due, e quindi la seconda cercherò di scambiarla con quella di Olaf, con qualche americano di buon cuore. Quindi si aspetta questo scambio, si aspetta che qualche americano si decida a pagarla il dovuto, visto che sono nate molte polemiche, gli americani non vogliono pagarla più del dovuto, cioè non vogliono pagarla quanto vale, perché secondo loro non è giusto, quando loro stessi pre-primi hanno speculato sulla chiave di Olaf. Quindi questo è tutto un discorso di collezionismo, di prezzi, sono discorsi brutti, ma sono discorsi che vanno fatti, e quindi gli europei non vogliono svendere questa chiave agli americani, perché semplicemente loro non vogliono svendere quella di Olaf. Quindi c'è questa sorta di guerra fredda al momento. Ma io per ora mi tengo il mio doppio e aspetterò. In ogni caso questa è la chiave di Frozen 2 dedicata alla regina delle nevi. È l'ultima chiave che è arrivata il 4 di maggio per lo Star Wars Day. Anche questa chiave è caso diplomatico, perché negli Stati Uniti il sito è andato in tilt e pochissimi sono riusciti ad acquistarla, mentre molti l'hanno acquistata con i bot. Quindi gente che è riuscita ad acquistarne 100, gente che invece non ha presa neanche una, e quindi ora stanno cercando disperatamente in Europa queste chiavi, visto che in Europa tutti siamo riusciti a comprarla. E si tratta quella dello Star Wars Day ed è questa qui. Abbiamo la parte azzurra qui sul davanti e anziché il classico castello Disney, ecco che abbiamo questa placchetta con il logo di Star Wars. A me piace davvero tanto e credo forse una delle mie preferite. Io aspettavo da tanto una chiave a tema Star Wars ecco qui all'interno che abbiamo anche il logo del Made the Force Day. Ora io spero sinceramente che comincino a fare anche delle chiavi dedicate al mondo Marvel. Visto che abbiamo avuto chiavi dedicate a Pixar, chiavi dedicate a Disney, tantissime, la chiave di Star Wars finalmente. Io spero caldamente che adesso comincino ad arrivare anche chiavi dedicate al mondo Marvel. quindi io già penso a Spider-Man, a Doctor Strange, a qualsiasi altro supereroe, a Capitano America. Ci sono davvero tantissime chiavi che sarebbe possibile realizzare e quindi io non vedo l'ora di continuare ad acquistarle, che poi in realtà non si acquistano visto che vengono regalate a fronte di una spesa minima di 20€. Quindi devo dire che è una collezione abbastanza sostenibile al momento visto che rilascio di circa una chiave al mese. Quindi tutto sommato per ora abbastanza gestibile. Fatemi sapere voi nei commenti se avete cominciato questa raccolta, se avete tutte le chiavi, se avete preso solo alcune chiavi sia ed altre no, qual è la vostra preferita, se già le conoscevate. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti, come al solito mi trovate su Instagram antonio.seria. Quindi ragazzi, non vi resta che andare alla ricerca delle vostre chiavi ed aspettare il prossimo video che arriverà tra qualche giorno. Intanto chiudo il becco e vi saluto. Ciao!